buongiorno buongiorno a tutti sono anna ranzani ormai ci conosciamo per i tutorial di ginnastica per le lezioni in diretta sulla pagina sempre di trezzano oggi sono qui per parlarvi della giornata della salute il motto che vi voglio trasmettere in questi giorni è restiamo attivi restiamo attivi da tutti i punti di vista quindi voglio lasciarvi questi dieci consigli che io chiamo il decalogo per prendersi cura di se stessi il principale punto numero uno è come voi sapete l'alimentarsi in modo corretto equilibrato introducendo tutti gli alimenti e non privandosi di nulla il secondo punto è mantenere il giusto peso vale a dire non il giusto peso che ci passano magari mas media che può essere l'eccessiva magrezza ma il giusto peso per farci stare bene e ritorno a ripetere la parola di oggi e a mantenerci in salute terza terzo punto molto importante anche lui dedicare a tempo a se stessi e ai propri hobby ricordiamoci che il corpo non deve essere mai staccato dalla mente vecchio detto mensana incorpore sano quarto che è il punto che magari approfondisco un po di più perché la mia materia svolgere una moderata attività fisica per svolgere una moderata attività fisica voglio aggiungervi soprattutto fare qualcosa che vi piace ognuno di noi ha delle preferenze c'è chi piace magari camminare c'è chi piace correre c'è chi piace ballare c'è chi piace andare in palestra la cosa importante è mantenere che un'altra parola chiave di oggi che voglio trasmette di mantenere la costanza equivale a dire mantenere nella settimana più o meno del tempo per fare attività fisica quindi non è la giornata che fa la differenza cioè se un giorno mi alzo magari non ho voglia di fare attività fisica ci sta ci mancherebbe però se questo perdura per tutto l'arco della settimana il nostro organismo ne risente ok quindi muoversi per prendersi cura di se stessi e non solo e soltanto per dimagrire ok dobbiamo pensare al movimento fisico come una cura come una cura che può essere anche la classica cura che magari ci viene dato dal medico dobbiamo inserirla nella nostra vita quotidiana altra cosa importante è ricordatevi sempre che un altro stratagemma io parlo di stratagemmi tante volte è fare le scale le scale sono un toccasana soprattutto in salita perché carichiamo meno sulla colonna io lo dico sempre se avete l'ascensore e abitate al quinto piano faccio un esempio magari scendiamo al terzo con l'ascensore gli ultimi due piani li saliamo a piedi e teniamo in moto il nostro organismo ok abbiamo in moto il nostro sistema cardiovascolare e via discorrendo vado avanti con gli altri punti giusto per correttezza perché vi ho detto che erano solo che erano 10 il quinto è non eccedere all'esposizione di sole sappiamo che il sole fa bene ma va preso nei modi e nei tempi corretti altra cosa andiamo avanti con gli altri punti quinto punto evitare il fumo immagino già la popolazione dei fumatori che quando parlerò di questo mi guarderà un attimino magari storto di traverso però è doveroso e va detto settimo punto oltre al fumo come sapete non eccedere nell'abuso di alcol altra cosa importante è quando si beve di bere acqua che è la cosa che il nostro organismo necessita bere acqua porsi degli obiettivi anche in questo quindi mantenere il nostro classico almeno litro e mezzo due di acqua solo e soltanto acqua cercare di dormire bene so che questo è un po in questo periodo magari che siamo un po tutti sotto stress dovuti a questa pandemia che ci sta un attimino sovrastando e che mantiene il nostro livello di stress piuttosto alto si fa fatica anche a volte dormire però nel limite del possibile cerchiamo di imporci degli orari per andare a dormire e soprattutto per svegliarsi non soprattutto per chi magari è in pensione non sta andando più a lavorare dormire non mantenersi degli orari perché avere anche la costanza in questo ci mantiene in salute quindi cercare di andare a letto sempre alla stessa ora cercare magari di svegliarsi anche sempre alla stessa altra cosa importantissima ma in questo momento magari è un po più difficile da mettere in pratica dare spazio alla socializzazione in questo caso magari sfruttiamo un po di più la tecnologia abbiamo in mano smartphone abbiamo in mano pc sappiamo tutti che ci sono adesso modi tantissimi modi per poter comunicare parlare con gli altri magari sfruttiamo facciamo un po di più chiamate verso gli amici e cerchiamo di mantenere in contatti e di non isolarci e altra cosa che ho detto all'inizio che voglio ripetere tenere allenata la mente che è quindi fare giochi enigmistici qualsiasi cosa che vi tenga allenata alla mente ok concludo ripetendovi le parole chiave di oggi restiamo attivi grazie a tutti grazie a tutti